I dati che abbiamo a disposizione, per quanto preliminari, per quanto basati su un numero non importantissimo di soggetti valutati, danno indicazioni positive da questo punto di vista. E quindi questa è la ragione per cui le società scientifiche, alcune nazioni hanno già preso una posizione specifica a favore della cosiddetta vaccinazione eterologa, che è sostenuta e utilizzata già in altri paesi a livello internazionale e a livello europeo. Teniamo conto poi che tutto sommato, un approccio diverso, i vaccini che abbiamo a disposizione lavorano nello stesso senso, in quanto inducono una risposta verso la cosiddetta proteina spike del virus e tutti agiscono quindi allo stesso modo. Il fine ultimo della vaccinazione è indurre la risposta di anticorpi verso la proteina spike, che è quella parte del virus che si lega ai nostri recettori cellulari. E quindi da questo punto di vista benvenuto alla vaccinazione eterologa con i dati che abbiamo a disposizione ad oggi.